A mezzogiorno di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Pace a Cornuda in provincia di Treviso per l'incendio di un'auto all'interno di un'auto rimessa di un condominio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre accorse dal distaccamento di Monte Belluna e da Treviso con due autopompe, un'auto vuote e 13 operatori hanno spento le fiamme della Volkswagen Polo Diesel che si trovava negli spazi comuni di un'auto rimessa di circa 1000 metri quadri, evitando l'estensione dell'incendio e i box presenti all'intero fabbricato. Danni da fumo a tutto il seminterrato. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici presenti sul posto con il funzionario di guardia. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore, inibito l'uso del seminterrato fino al ripristino delle condizioni di salubrità dei luoghi.